Al danno in questi casi si aggiunge anche la beffa, sì perché dopo il fegato amaro e l'arrabbiatura mattutina bisogna poi ricorrere ai ripari a meno che non si voglia rimanere con la carrozzeria dell'auto zebrata e ricorrere quindi alle cure del carrozziere di fiducia ed infatti anche questa mattina i carrozzieri della zona sono stati visitati dai malcapitati possessori di auto prese di mira dai vandali. A occhio e croce comunque un danno di quante decine di mila di euro? Si parla di 100-150 euro per macchina, questa qui diciamo che con 100 euro si toglie perché è bianca la macchina è più facile da togliere. È capitato altre volte di vedere cose così? Ma se ne vedono tante anche altre volte sì sì. Un danneggiamento quindi non da poco con un esborso di soldi non preventivato per decine e decine di persone che hanno fatto ricorso questa mattina ad un professionista per ripristinare al meglio il danno causato alla propria autovettura dalla vernice spray.